buongiorno di letta oggi prepareremo pasta zucca calamari e rosmarino gli ingredienti della ricetta di oggi sono pasta mista zucca calamari rosmarino gli ingredienti per il brodo sono cipolle sedano carote iniziamo la nostra ricetta di oggi preparando il brodo nel frattempo prendiamo la nostra zucca e richiudiamola nella carta agentata assieme a del rosmarino facendone un cartoccio inforniamo la zucca in forno statico a 180 gradi per circa 15 minuti ultimata la cottura della zucca frulliamola insieme a sale pepe d'olio fino ad ottenere una crema omogenea come questa versiamo del brodo bollente in una padella ed iniziamo a cuocere la pasta questo procedimento di cottura è simile a quello dei risotti durante la cottura dovremo aggiungere del brodo a 3 minuti dal termine della cottura aggiungiamo alla pasta prima la crema di zucca e poi calamari e nel frattempo abbiamo tagliato a rondelle ultimiamo la cottura impiattiamo e serviamo il nostro piatto ancora caldo il nostro piatto è servito buon appetito a tutti con supermercati md